Ben ritrovati dal Tg della mobilità, dalle 20 di questa sera via dei cerchi sarà chiusa tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole per consentire le prove del primo spettacolo estivo del teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo. Dalle 20 quindi saranno deviate le linee di bus che transitano nella zona. Metro C avanzano i cantieri per la realizzazione della tratta Colosseo Fori Imperiali da domani al 7 dicembre, stop notturno con le ultime corse alle 20 e 30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni in strada a bus sostitutivi. Conclusa la manutenzione della pavimentazione in piazza Ancomarcio a Ostia pedonalizzata nel tratto tra via dei Fabri Navali e lungomare Toscanelli. La sindaca Raggi fa sapere che sono stati rinnovati gli arredi urbani sostituite le fioriere e installate le nuove panchine. Gli aggiornamenti e i dettagli sono...